Il Mahon di Rende, il Museo dell'Arte dell'Ottocento e del Novecento, ospita una suggestiva mostra dedicata agli artisti calabresi, curata da Tonino Sicoli e Bruno Corà, con cui viene celebrato il ventennale dall'apertura dello spazio espositivo situato nel cuore del Bocco Storico. Documenta questa mostra il ruolo degli artisti calabresi nel Novecento italiano, a partire da grandi nomi come quello di Umberto Boccioni, quello di Mimmo Rotella, di Angelo Savelli, Antonio Marasco, fino ad arrivare anche alle generazioni del dopoguerra, quindi tutto ciò che riguarda il contemporaneo. L'allestimento sarà presentato anche a Milano nell'ambito di un progetto di più ampio respiro sul Novecento italiano e anticipa una mostra con la quale tra poche settimane si celebrerà il centenario dalla nascita di Mimmo Rotella. Temi trattati nel corso di una tavola rotonda sull'arte in Calabria organizzata dall'Associazione Eurocal, presieduta da Vincenzo Macri, con lui anche due politici di lungo corso, ex assessori regionali alla cultura, Saverio Zavettieri e Sandro Principe. Quando ci sono serate di questo tipo, dove abbiamo la possibilità di conoscere la storia e l'arte della nostra regione, secondo me favoriamo appunto lo sviluppo del territorio stesso. Sono convinto che a Calabria una via d'uscita ce l'ha e ce l'ha nella cultura, nell'arte. È una regione bella, ricca di risorse, che ha tutto quello che la natura poteva dare a una regione. Una regione come la Calabria può non avere l'assessore alla cultura. Io non rilisco al pensiero che tra le 30 o 40 deleghe che trattiene l'attuale Presidente della regione ci sia anche quella della cultura, dell'innovazione e dell'università. Infatti mi chiedo quale sia oggi la politica culturale della regione. Salvatore Bruno per la Cineuse 24